Siamo nel cuore del borgo antico di Taranto, nella città vecchia, una zona che davvero dovrebbe essere, e lo è, potenzialmente splendida, potrebbe essere un'attrattiva enorme per il turismo, però la situazione di decozione, di faticenza, di sporcizia, di assoluta carenza di igiene pubblica fanno vivere gli abitanti in una situazione davvero incredibile. Ugo Lomartire, già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli e già consigliere comunale, ha raccolto queste lagnanze. Un po' il suo giudizio. Sì, è assurdo che qui nel cuore della città vecchia, dove vivono tante persone che hanno il sacrosanto diritto di vivere dignitosamente, hanno pari diritti come tutti quanti i cittadini del mondo, hanno anche il diritto di vivere nella pulizia, nell'igiene, per fare sì che venga curata il più possibile la città vecchia, ma si vive in un totale stato di degrado e di abbandono. Come si può vedere molte volte chiaramente dalle immagini, c'è sporcizia, c'è abbandono e quindi in questo senso chiedo un intervento da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco Melucci affinché qui in città vecchia si risolvano questi problemi di vivibilità per questi cittadini che giustamente hanno tutti i loro diritti. Vogliamo sentire così qualche segnalazione, qualche lagnanza? Sì, il sindaco ci ha abbandonato. Lei? Eh niente, perché qua c'è molto degrado, c'è molta sporcizia, non si vede un operatore ecologico. Qui in che zona siamo di preciso? Qua siamo su San Martino, precisamente questo è Bico Trentacani, la via è questa, siamo abbandonati, non c'è un operatore ecologico, nessuno. Bene, l'appello, lo martire, ecco anche un altro amico ha da dirci qualcosa. Non passo meno spazio in da qua, non vedi mai nessuno, se non puliamo noi, non pulisce nessuno. Bene, e allora per concludere lo martire, un appello, qui il cittadino paga le tasse, al cittadino si chiede il voto e il cittadino ha diritto di vivere in condizioni dignitose. Tra le altre cose, questo va detto, va detto a grande voce, come diceva anche prima il cittadino qui al mio fianco e i cittadini qui al mio fianco, loro, oltre a pulire dentro casa, loro puliscono anche i vicoli. Si danno da fare per fare sì che la città vecchia possa migliorare, ma logicamente ci deve essere anche la presenza dell'amministrazione comunale, perché da soli non devono andare a sostituirsi all'amministrazione comunale.